Al 30 giugno 2021 sono 53.637 i detenuti nelle carceri italiane con un tasso di affollamento del 113%, visti 47.000 circa posti effettivamente risponibili. Sono i dati riportati dall'Associazione Antigone nel suo rapporto sulle condizioni di detenzione, intitolato a partire da Santa Maria Capoavetere, numeri, storie proposte per un nuovo sistema penitenziario. Fra gli istituti vi sono importanti differenze, 117 su 189 hanno un tasso di affollamento superiore al 100%. Guardando alla Toscana la popolazione detenuta è diminuita, mentre i vaccinati sono solo il 10% con 317 dosi somministrate. Scendendo nello specifico a Solliciano ci sono più di 600 persone e si registra un record negativo a livello nazionale. 105 episodi di autolesionismo ogni 100 detenuti pre-pandemia. A livello nazionale erano intorno a 15, mentre adesso sono a 23 episodi in tutta Italia ogni 100 detenuti. Il dato fiorentino è realmente allarmante. Intanto a Grosseto si ha il 180% di sovraffollamento, mentre si registrano ancora a Solliciano due bambini sotto i tre anni che vivono con le rispettive mamme. Si è parlato nel rapporto di Antigone anche del carcere di San Gimignano, dove il 28 agosto 2019 15 agenti sono stati arrestati per un pestaggio avvenuto nell'ottobre precedente. Dopo l'esposto dell'associazione, 5 agenti non hanno optato per il rito abbreviato e sono stati rinviati a giudizio per tortura.